Ciao ragazzi siamo i 2bombe e oggi siamo qui per farvi vedere un nuovo gioco Fly Ride, apriamo e vediamo come si gioca Lo sono scaricato solo ieri Ecco sta partendo Insomma è una macchina che deve sbattere Ok i ragazzi sono morti Prendiamo i soldi Prendiamo un nuovo veicolo A limusine Ora giochiamo Ok spero che il video vi sia piaciuto Mettete un mi piace e condividete Mettete un mi piace e condividete